...di Inzaghi quando è arrivato il gol, ecco qui sta telecomandando i suoi giocatori praticamente e va decidendo tutto lui dalla panchina, che poi non è più panchina perché guardate che cosa fa adesso appena arriva il gol va a disultare come se avessi segnato lui forse più veloce anche dei suoi giocatori questa è la gioia, la felicità